buon ciao a you eccoci qua in questo doppia rara in questo nuovo video inauguriamo subito Innistrad caccia di mezzanotte con un bellissimo draft ho preso il mostro della fanchiglia 2 mana blu 3 in colore 5 5 nel primo pick quando entra nei campi battaglio attacca scegliamo fino all'altra creatura bersaglio gli mettiamo segnalino melma le creature non orrore con segnalini melma perdo tutta l'abilità hanno forza e costituzione base 2 2 carta molto simpatica e mentre qui abbiamo un bel remita malevolo per continuare sul blu un'altra rara altrimenti essendo il primo tappa 3 carta no una casa bersaglio io andrei sempre sulla rara comunque ci servono e poi neutralizza maggiore un creatura bersaglio meno che il suo controllore un pachi 3 e in più disturbare figo confermato ok di rosso blu e rossa abbiamo un 5 ma da 2 4 volare maggiata insegneria che lanciamo costano 1 o meno per essere lanciate e prende più 2 più 0 di blu abbiamo 5 ma da 3 6 ma c'era 3 non può essere bloccato 5 ma da 3 3 lampo volare 4 vari proprietari della creatura bersaglio mette con la creatura in cima in foto a grimorio creiamo una pedi la creatura zombie 2 2 nera con il diavoletto fa danno ogni avversario e questa può essere simpatica in cima e in fondo però lui decide 5 ma da 3 3 lampo volare pesante io mi butterei più sul sentiero cerchiamo terra vediamo o counter disturbare distruggi creatura bersaglio senza volare costrizione aggiungi un mano spendi questo mano solo per pagare un costo di disturbare lanciare magia istantanea seguire via 3 male 2 1 lampo volare entra in campo di battaglia meno 2 meno 0 picco quasi inutile però no rimaniamo sul blu o counter o continuiamo ad aggrare e continuiamo ad aggrare può essere simpatico ok incanta creatura quando rinchiusa il cimitero tra i capi di battaglia ci sono cinque o più carte nel cimitero tappa la creatura incantata la creatura incantata non stappa durante lo stop del suo controllore e ho due mal e la creatura bersaglio prende meno 2 meno 0 crea un apedia decomposto e pesca una carta distruggiamo una creatura bersaglio senza volare si andiamo con il nero come cosa a dizionare sacrifico un permanente non ci interessa forte questo forte anche lei questo mi piace però distruggiamo 6 mano così facciamo tre colori entro i capi battaglia se non avversario ha perso punti di vita in questo turno perde due guadagniamo due quattro mano tre quattro entro i capi battaglia esilio fino a casa ok guarda le tre carte grimorio puoi rivelare una carta creatura fai tornare un permanente non terra bersagli manna supermerario se controllavi quel permanente pesco la carta fa tre danni ok per ora puntiamo sul blu nero con opzione sul verde costrizione da parte più forte lui è un imbalsamato poi verde bianco verde nero un ipogrifo se regge alle notte entra nel capi battaglia come giorno ogni volta un bel tappa guarda i tre punti di vita aggiungi umani qualsiasi colore a questo punto se proprio vogliamo fare come cosa dizierai per lanciare questa magia sacrifica una creatura o paga due sette mana sette sei o cinque mana sette sei o altrimenti lui lui è bello però vabbè a disturbare va bene dissipare osservatore tappa declarature ogni avversario perde un punto vita guarda le prime due carte grimorio avversario bersaglio esilia una di essa faccia in giù metti l'altra in fondo a grimorio puoi guardare e giocare la carta esiliata fin tanto che rimane esiliata e puoi spendere mana come se fosse mana di qualsiasi colore per lanciare questa magia va bene e niente visto che il verde se ne va meno x meno x a tutte fortissimo pure una mitica abbiamo preso muore ma c'era tre carte riprendi mano a creatura bersaglio c'è i final zombie bersaglio che controlli questo grizzly era potente tappa te che tu e stappate i controlli guarda la prima carta del tuo grimorio puoi mettere il cimitero difensore va bene lui il bramoso 1-3 macina 3 poi quando diventa disturbare quando la giochiamo dal cimitero 5 mana 3-4 volare può essere simpatico conferma verde-blu guarda le prime tre carte del tuo grimorio mette un qualsiasi numero nel tuo cimitero e l'altro in cima del tuo grimorio ok non ti fa pescare 4 mana 4-2 entra in campi battaglia se no bersaglio ha perso punto di vita crea un pipistello 1-1 e si riefina una carta bersaglio nel cimitero pesca una carta ho preso la sussurratrice pipistrelli una creatura bersaglia tocco letale peschiamo costrizione una creatura bersaglia prende meno 2-2 se è notte con la creatura prende meno 13-13 però questa ci fa pescare no meglio lei peschiamo 8 gradure se non graduro un avversario avversario scarto 2 carte crea una pedina 2-2 nera decomposto senza via di uscita altrimenti strisciare riprendiamo carta dal cimitero avremo poco nel cimitero con disturbare però in monocopia ci può essere ci può stare puoi tappare o stappare un permanente avversario uno scartino vabbè un procacciatore ce lo mettiamo 2-1 dissipare 9-9 vediamo se lo rendiamo più control non male non male come curva non male vabbè qua carta a casa ci guadagna la carta da bersaglio strisciare dalla cantina strisciare dalla cantina un altro un altro mostro della fanchiglia mentre questo come cosa addizionale per angiare questa magia sacrifica un qualsiasi numero di creature crea una pedina zombie xx blu e nera come in accia 2x la forza totale delle creature sacrificate neutralizza magia poi rimescolare il tuo grimorio fino a 4 carta di bersaglio nel tuo cimitero un'altra fanghiglia infanghiamo la fanghiglia altro counter o altro disturbare 2-1 1-2 o un altro removal un altro removal vediamo di nero abbiamo la vampira farabutto 3-2 se non avessi perso il punto di vita durante la nostra sottofase finale gli mettiamo più 1-1 su vampiro bersaglio che controlliamo 2-2 mani incanta creatura creatura incantata ah ogni volta un'altra creatura amore metti segnali 1-1 quando la creatura incantata amore guarda le prime x carte del tuo grimorio di x la sua forza una in mano e l'altra in fondo a questo punto vampirozzola vampirozzola e bella questa bella questa bella questa ogni bersaglio perde 1 qualcosa più a 2 mana che a 3 o qualcosa più grosso tipo lei 5 mana 3-4 entra ai campi battaglia creiamo 2 zombie 2-2 nero decomposto quando lo fai si raffina 2 carte bersaglio dai cimiteri va benissimo un altro ciccione va bene altro ciccione qualche ciccione ce l'abbiamo un altro zombie 2-2 forte il mago umano sacrifica pesca va bene quando l'occultista una vizia muore pesca una carta e perdi 1 24 carte creare la pedia creatura zombie come cosa addizionale agrissimo vai un'altra costruzione un'altra carta brutta prendiamo lei che siamo in standard e mamma mia che sudata un altro bellissimo madre 2 di questi 3-1 pedina contravolge gambe vitale è forte ok il primo draft è andato ora giochiamo però 43 carte 8-9-17 ci può stare 16-10 anzi lei in fondo poi creatura rimbalzino 3 mobile il dissipare per ora ce lo teniamo no questo mi piace tocco le talle pesca creature creature creatura 9-17 terre 40 carte potenziamenti non li abbiamo equipaggiamenti non ci sono qualche abbiamo guarda ma queste sono venute si solo puoi buttare tutto nel cimitero giorno e notte noi che lo facciamo molto è tutto con disturbare il counter forse un mono counter ok ricrea una pedina è più lo scartino che il counter vabbè per ora mettiamoli tutte e due qua e c'era scartino e counter come creature come siamo messe vabbè due fanghiglie un 3-4 che crea due pedine che morirà nel turno dopo però esiliamo fino a due carte bersaglio dai cimiteri il fatto di esiliare mi piace lui è molto particolare lui più o meno a livello di mana 9 da 2 8 da 3 3 da 5 e due da 4 però abbiamo qualche disturbare a 5 va bene 41 carte per la prima partita ci sta che figo ok avassi proprio vediamo vediamo teniamo tranquillamente doppio troppo a 2 defenestrare distruggiamo creatura e poi un ciccione disturbare per lanciare questa carta al tuo cimiterro trasformando ho trasformato ho pagato il suo coso di disturbare è tutto l'ansia per capire come gira proprio il formato non è che conosco tanto sì ho fatto i spoiler però tu hai trovato terra selvaggio evoluzione lui invece è non comune muore ma c'è tre carte va bene pescatore dell'esca e poi abbiamo un naufrago per la 5 vana che ha fatto si è scordato di fecciare no non gli dico niente attacco gas gas raggio come ho detto è una forte non disturbare perché dice solo quando viene messo in cimiterro da qualsiasi zona invece esigliano perciò ritorno quindi vai il naufrago giochiamo il mazzetto che disturba sacrifico ogni tanto ho tenuto con tre terre e mi sono bloccato a tre terre anche se bloccato tra virgolette ok quella è forte quanto l'angivaggia istantaneo secondaria prende più due più zero picchiamo così c'è la musica fuori a meno non ci straicano ok ho perso la terra ma sette carte in mano che ha fatto giorno ok ogni volta diventa il giorno diventa notte la notte diventa giorno scatta fino a due carte poi poi scatta tante carte e dai questo può fare il casino meno x meno x a tutte le creature ah è miticozza forte ogni qua volta la creatura che controlliamo muore ogni avversario perde uno ogni qua volta la creatura controllata l'avversario muore guadagniamo uno l'altra volta ci metto l'orso imbalzavato vediamo se fa giorno notte giorno e notte notte giorno no un fuorileggio un fuorileggio un fuorileggio blocco ok e vai sì sono molto molto forte con questi 1-3-1-2-1-1 dove si raffinano la carta bersaglio da un cimitero ok a gengiumane qualsiasi colore ok 3-4 risolto e non attacchi un altro occultista vabbè io la continuo così e in più ti gioco lei perfetto decomposto che dice vabbè non può bloccare quando attacca il turno dopo la sacrifica o l'esilio che fa non dice niente interior l'amico deve sbagliare non blocca ma vabbè la dovrei sacrificare dopo l'attacco vabbè vediamo vediamo che succede con questa con questa race in mano c'è tutto in mano c'è tutto e poi e poi il tuo controllo è segnato una creatura un place walk e bersaglio controllate da un avversario ok vediamo che succede ecco ah ecco che fare che fare vabbè hai fatto due danni aggia forte bello bello sto sto vampirozzolo vediamo vediamo a 5 mana scarte pesca che è scartato ancora Island Island vai vedi quanta gente tutta sul sul mostro della fanghiglia non mi do di mano ma che meno fu eh forte lo scartino flashback ah no disturbare 2-2 volare tocco le talle comunque lui sta sotto pressione il turno dopo male che va pulisca il campo muro le macina 3 e poi ritorno arlino ok 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 Grazie. Oh, iniziano su, ok. Questa è da 5. Quattro, sette. Quattro, sette. Quattro, sette. per sé perde uno, ogni volta che tu hai contratto a prestare muore guadagno un punto di vita, ok. Ma 4,3,7 ci mettiamo, ci mettiamo, ci mettiamo o inviamo a 0 lei mi piace, lei mi piace i due peschini, vai pure tu bestione ok, qua abbiamo i 5 danni per tk l'avversario è lui che leva le abilità vediamo se è finita ok ah, 0 light, ok 4,4,8 vai adesso è un bloccante ok bello oh no ah sì è pur istantaneo è la prima un po' di sudata però si è molto contro questo deck il meno x meno x ha fatto tanto bomba pescata bomba 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 mi piace mi piace mi piace eh, ha fatto pure la fanghiglia eh, ma poi diventa pesante già nel notte ne facciamo molto ma che cosa secondo me il counter pure poteva essere interessante può essere la carta più contro che abbiamo però forse meno utile ok con il doppio blu sicuramente ci potrà servire poi esilia anche la magia neutralizzata perciò ho levato la sussurratrice ok che è grossa però fa un pipistrello e rimaniamo quante categorie abbiamo dice 14 con il doppio blu quando ne abbiamo eh, no mi sa anche se anche se è impossibile io butto un'altra creatura con volare all'interno anzi no meglio lei dai teniamo così queste che me ne faccio per la fanghiglia via ok eh, sì troviamo che figo ecco eh guarda occulti oh teniamo per provare estrarre la conoscenza la potete giocare sempre ok che inizia rk12 mettiamo il nero che fa sempre paura guest navizia navizia quale prima carta metto qualsiasi numero il cilitero ok l'è fatto oh ma la fai profetizzare tre a me non piace ok ho levato la terra ah no ho levato la terra e eh no leva le cilitero ok picchiamo occultista navizia ancora hai fatto flashback guarda il frattacrimonio con questo vi posso rubare anche una terra è sprecatissimo invece tre 2-1 quando hai tempo il batterio si controlla questo ok ok va bene termine turno l'intruso della nebel gust e disturbo ok meno un altro volare tocco le tavole niente terra e terminiamo il turno e si rifine una carta passata civile crea una pentina creatura zombie 2-2 nera con dengo posto flashback 2 ne fai un altro che figo ok mi stai picchiando male no guardiamo queste prime due carte all'inizio diventa la doppia carta dei tuoi mori quindi guarda che sei una carta sana che fai blocchi non blocchi questa lui non la vede che avrà la fanghiglia per aver attaccato con lo zombie io ho levato una carta ho fatto 17 terra 40 ancora decomposto no maledetto essere umano blocchi non blocchi e andiamo board però lui adesso ha un sacco di gente sarà a 7 però ha un sacco di gente che non blocca però vediamo qual è la sua tattica ok sacrificio la creatura peschi 3 tanta roba vai 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 massacro peschiamo 2 esagerato scapritore sta 3 sta 3 grande scapritore non posso fare orda e riprende carta al cimitero ok riprende anche lui carta al cimitero e fa orda rivediamo il sandagno stregoneria e gg oh un po' ricordate rifiuto peschiamo terra dio occultista uno e due ti vedo molto vale pesca pesca com'è il cane bau no ah io vado anche pure così ok perciò io mando eh sì ho vinto perché attaccavo con tutto vabbè io stavo vedendo se volavo comunque stavo messo abbastanza bene fortissimo fortissimo il massacro del gancio da canne fortissimo veramente forte 2 a 0 abbastanza lì è un massetto molto molto particolare ho vinto quasi due volte con la stessa carta però però signore e signori anche bloccati a tre mana forte e niente secondo me è meglio stoppare qua questo video e ci vediamo alla prossima mettete like iscrivetevi al canale vi voglio bene bella voglio yo yo bimba iscrivetevi al canale